Musica Le ultime novità in materia fiscale e pensionistica ci vengono illustrate dal segretario provinciale della CGL di Arezzo e dai responsabili di settore. Si parla di sostegno alle famiglie alla luce delle ultime novità varate dal governo. Al segretario provinciale della CGL Alessandro Tracchi domandiamo un commento, una valutazione su queste novità. Sì, parte questa campagna dell'assegno unico e per noi è un'importante novità, dovrebbe essere un sistema semplificato d'aiuti alle famiglie, tant'è che convergono su quello che era l'assegno per il nucleo familiare e tanti altri istituti. È uno strumento nuovo, vorremmo vedere che questo porti dei benefici ai lavoratori e a tutte le persone che rappresentiamo. Si tratta di invitare i lavoratori a rivolgersi anche alle nostre sedi, ai nostri CAF, ai nostri patronati, perché la predisposizione della domanda prevede dei passaggi abbastanza precisi, ovvero la determinazione dell'ISEE oppure la richiesta del semplice assegno attraverso il patronato. Una conquista che noi come CGL rivendichiamo, perché da tempo avevamo sostenuto la necessità di semplificare anche le troppe domande o i troppi istituti che si accavallavano e vorremmo ora anche verificare che questo porti un euro in più nelle tasche dei lavoratori anziché un euro in meno. Il tema delle pensioni continua ad essere di stretta attualità. A Giancarlo Gambineri domandiamo quali sono le ultime novità. Le ultime novità dopo tanti anni abbiamo finalmente una perequazione sulle pensioni, cioè un aumento, anche se pur limitato. Dal primo gennaio l'Inps ha ricalcolato l'aumento dell'1,7, per la verità l'1,6 poi farà il conguaglio con il mese di marzo, su tutte le pensioni. Non siamo rimasti molto soddisfatti dai provvedimenti presi nell'ultima legge finanziaria perché le pensioni più basse hanno avuto l'aumento più basso e qui non bisogna in qualche modo invertire la tendenza. Però dopo tanti anni le pensioni aumentano e se si abbina a quello che ci sarà nel mese di aprile, che è la riforma del sistema IRPEF, del sistema fiscale, le pensioni avranno quest'anno un aumento consistente. Questo noi ne siamo profondamente soddisfatti che finalmente dopo tanti anni il governo accoglie quello che è una giustizia sociale, cioè che le pensioni vadano un po' secondo i costi della vita. Riforma fiscale interessa soprattutto i redditi al di sotto dei 50.000 euro. Quali sono gli aspetti più significativi di questa riforma? Siamo passati intanto da 5 aliquote IRPEF a 4 e non cambia niente nella prima fascia di reddito che va fino a 15.000 euro perché è rimasto il 23%, cambia praticamente nella seconda e terza fascia, che si dovrebbe avere una riduzione dell'IRPEF del 2% sulla seconda fascia e il 3% nella terza. Quindi dovremmo avere all'incirca sotto i 50.000 euro un vantaggio di circa 50 euro al mese, circa 600 euro l'anno. L'assegno unico parte dal primo di marzo, quindi noi consigliamo tutti i lavoratori e i pensionati che hanno figli per cui possono prendere l'assegno unico di fare l'ISEE entro il 28. Non c'è una scadenza tassativa perché la legge prevede che la domanda può essere fatta anche successivamente, comunque non oltre il 30 giugno. Quindi noi consigliamo a tutti di venire al nostro caffè a fare l'ISEE e contemporaneamente quando hanno sviluppato l'ISEE presentare la domanda di assegno unico. Se invece non hanno bisogno dell'ISEE allora possono rivolgersi direttamente con un appuntamento anche al nostro patronato Inca che è in tutta la provincia. Inca che è in tutta la provincia.